Come è la visione di un mondo solidale dove la fraternità prevalga sull'individualismo, sulla chiusura, sull'egoismo? Perché un meno giovane dovrebbe dedicare una parte del proprio tempo e delle proprie energie per fare un'azione di volontariato? Perché credo che in fondo quando si dà qualcosa per un altro si riscopre la vera essenza di se stessa.